Si ritornerà probabilmente alla normalità gioverdi 1 dicembre, martedì e mercoledì è previsto l'accumulo e poi si torna al rifornimento idrico in città. Torna alla normalità dopo alcuni giorni di stop in tutta la provincia, prima a causa dello scarso approvvigionamento del Fanaco e poi a causa della rottura della condottoria Olivo. Sono stati messi a disposizione della città due autobotti, una in piazza Mercato e l'altra al villaggio Santa Barbara. Serpeggia tuttavia il malumore tra i cittadini per il disservizio subito.